Tre sono le parti dell'animo umano secondo gli antichi. Tre sono i cervelli secondo la neurologia. Tre sono le facoltà della persona secondo l'antropologia. Tre sono le interpretazioni di che cosa sia l'uomo per la sociologia. Le conosci? Sai quali sono le implicazioni e le conseguenze di tutti questi punti? Il caffè è più buono se ristretto. Forte sì, ma non troppo lungo. Se vuoi prenderti il tempo per gustarti una brioche, molto meglio il cappuccino. Sempre forte, ma pacato. Un cappuccino con Paolo, quando il tempo di un caffè non basta più. Sempre con Paolo Pugni. Irrascibile, concupiscibile, razionale. Queste le tre anime secondo Platone. Che riprende una tematica molto forte presente nell'antichità. Soma, psiche, pneuma. Dagli antichi si arriva fino ai moderni per identificare tre parti essenziali. Cuore, pancia, testa. Chiamale come vuoi. Andate a cercare su Google tutti i possibili collegamenti. Cosa ci dicono questi spunti? Che c'è una parte di noi che è dedicata all'azione, all'agire. Una parte al desiderio. Una parte alla guida. Che c'è una parte di noi che sente quello che sente il corpo. Una parte di noi che sente gli elementi affettivi. E' una parte di noi che è dedicata a coordinare tutto questo ragionamento. In alcuni campi si parla di tre cervelli diversi. Se andate a vedere gli studi neurologici, a parte distinguere quello maschile da quello femminile, ma si parla di un'evoluzione del cervello dell'uomo. Dal cervello rettile, quello che è destinato alla sopravvivenza, all'istinto, alla reazione immediata. Quindi qualcosa che deve permetterci di reagire. Secondo i tre modelli, un'altra volta tre non è una combinazione, che fanno parte del regno animale. Di fronte al pericolo, quali sono le tre reazioni tipiche del mondo animale? Fuggire. La fuga. Flight in inglese. La lotta. Fight in inglese. Il combattimento, quindi l'aggressione. Oppure freeze, tre F che spiegano questi tre atteggiamenti. Quello di immobilizzarsi. Avremmo visto tutti dei documentari o delle foto in cui un animale per sfuggire al predatore si immobilizza, rimane frizzato, completamente congelato, perché spesso i predatori percepiscono il movimento, non riescono a vedere bene l'oggetto. Se poi magari c'è un mimetismo diventa ancora più significativo. Poi c'è il cervello del mammifero, che quindi sente l'affetto, le emozioni. Alla base del mondo relazionale. E poi c'è il cervello umano, come viene definito, dell'homo sapiens. Quindi quello che riflette, reagisce, agisce, pensa, reagisce avendo riflettuto e avendo ragionato sulle cose. Tre parti, anche qui, sottolineate dalla neurologia. E poi cosa dicono gli antropologi? Beh, dicono che abbiamo delle funzioni che sono proprie della persona umana rispetto a qualunque altro essere vivente. C'è una parte della nostra persona che è quella considerata più vicino al regno animale, che è intrisa di istinti e di affettività, di sensibilità, emotività. Quindi qualcosa che condividiamo con il regno animale, ma che reagisce in maniera meccanica se non fosse guidata dalle altre due funzioni che invece caratterizzano ogni essere umano. La capacità di intendere e di volere, che tra l'altro in assenza di questa capacità uno non può essere considerato responsabile e quindi colpevole. L'azione svolta in assenza di piena avvertenza e deliberato consenso, cioè incapace di intendere e di volere, è considerata un'azione non umana e quindi non punibile. E quindi c'è volontà, c'è intelletto, c'è governo di quello che stiamo facendo in tutto questo. Siamo così, siamo fatti così. Siamo fatti in questo modo qui e c'è chi pensa che invece, ecco, l'interpretazione sociologica è che siamo solo materia, siamo istinti, dobbiamo essere istintivi, dobbiamo essere immediati, cioè alla fine agire secondo una meccanica, secondo delle abitudini che abbiamo assorbito e che in realtà non determinano niente, determinano soltanto quello che ci è comune fare. Ma questo vuol dire che ci priviamo della parte intellettiva, della parte del giudizio, della parte della guida, della parte della volontà. Altri che ritengono che l'intelletto sia tutto, basta sapere. Se tu sai, beh, allora fai quello che vuoi. No, ci vuole la volontà per fare. Io potrei essere la persona più sapiente, cioè che sa tanto, ma la meno saggia di tutte, perché non sa applicare quella sapienza a dei contesti comuni. So cosa va fatto, ma non riesco a farlo. Quindi viene meno la comprensione del fatto che siamo fatti da una terna, da un triplete, se volete. Perdonatemi questo piccolo guizzo così un po' nel mondo sportivo e del tifoso. Ma siamo fatti da questo e se non lo comprendiamo, prendiamo delle grandi cantonate. Se non capiamo che la unità di queste tre funzioni è quello che siamo realmente, se pensiamo di escluderne qualcuna, distruggiamo l'umano. Creiamo solo infelicità. E quali sono le conseguenze di tutto questo? Siamo pronti a comprendere le implicazioni, a ragionare, a far funzionare tutto. Per esempio, a non ritenere che basti fare educazione perché le persone poi applichino la loro volontà a questo. Non siano travolte dagli istinti, dai desideri, dall'affettività che finisce per soverchiare il controllo dell'intelletto e l'applicazione della volontà, se non capiamo come funziona una persona. Come facciamo poi a dominare noi, gestire noi, insegnare agli altri a farlo, insegnare ai nostri figli e comprendere quello che capita nel mondo umano. Senza la comprensione di questa triade e di come queste funzioni diverse fra di loro si integrino e debbano tutte essere allenate, educate, rischiamo veramente. Non soltanto la nostra devastazione, la nostra delusione, ma di creare un mondo devastato in preda a una parzialità che finisce per rendere tutto un'eterna battaglia, tutto una terribile giungla. Buon cappuccino a tutti. Un cappuccino con Paolo va in onda grazie a Podbits, il team che ti aiuta a tradurre le tue idee in podcast e la tua voce in libri. Trovi tutti i caffè e i cappuccini con Paolo sul canale Telegram, telegram.me slash caffè con Paolo senza l'articolo mi raccomando, caffè con Paolo. Sempre su Telegram puoi contattarmi telegram.me slash paolo pugni. Grazie e alla prossima puntata.